Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo a termine di una gara senza esclusione di colpi. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio, adesso possono festeggiare. Siamo ai saluti finali, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. È stato un onore, come sempre. Siamo ai saluti finali. Siamo ai saluti finali. Grazie. Grazie.